Gibo, domani mi manderesti un pollo congelato? Il pollo te lo posso anche mandare, ma il gelato lo devi prendere al bar vicino a casa tua. Sai Fausto, ieri in macelleria mi è arrivata la squadra mobile. Perché? Vendevo petti di pollo senza reggiseno. Sai Gibo, Loris è diventato nonno di un bel bambino di 4 kg. Con rosso o senza?